Fra i vostri personaggi c'è una sorta di passaggio di testimone, perché si tratta di due generazioni diverse e il tuo personaggio deve praticamente prendere, vuole prendere le redini della sua attività. Come avete lavorato però su quel tipo di tensione che si riesce a sentire fra i due personaggi? Che tipo di studio c'è dietro il vostro personaggio? Vuoi, esclusivamente sul nostro personaggio, sul rapporto che intercore fra i due? Sul rapporto, sì. Anche. Uno dei temi più importanti della famiglia, la piana, in quanto esponenti di un'organizzazione criminale, soprattutto come quella dell'andrangheta, è il concetto di famiglia. Cioè non si può prescindere da parlare del potere se non si parla di famiglia quando si parla di andrangheta. Quindi banalmente siamo partiti da uno studio esclusivamente legato a questi tipi di dinamiche, che è molto legato a dei fatti reali. Il mio personaggio, hai detto bene a dire che ha una sorta di rivalza, che vuole prendere il posto, però non è semplicemente un'ambizione fine a se stessa, perché essendo un potere che passa di padre in figlio, io sono, io Stefano personaggio, perfettamente consapevole che andrò a prendere il posto al vertice della piramide. La tensione che nasce, nasce appunto da questo forte legame familiare, ma al tempo stesso una divergenza di mentalità tra vecchio e nuovo. Poi io come il vecchio, il boss, il capo dell'andrangheta, ha questo nipote che lui vuole bene, ma dentro di sé sente, lo sa, che lui col tempo dovrebbe prendere il posto come capo dell'andrangheta. Allora voglio dire una cosa, in un attore da una parte siamo avvantaggiati, ci possiamo anche preparare. Lo svantaggio qual è? Lo svantaggio è che nella storia personale di ognuno di noi, nella vita, noi non sappiamo quello che succederà tra un mese o fra due mesi. O allora un rapporto che puoi avere con un parente, con un amico, può essere lineare, onesto, però poi non sai se quello ti fa uno sgambetto o meno, magari non te lo immagini. Il nostro svantaggio è quello che, gioco a forza, noi siamo costretti a leggere tutta la sceneggiatura, quindi sai più o meno il percorso, quello che è. Quindi questo è uno svantaggio. Dall'altra parte però devi trattenerti, non far capire a te, spettatore, che tu cominci a sospettare qualcosa di non lecito. E questo voglio dire che, ma poi comunque voglio dire un rapporto normale tra nonno e nipote, no? Non dobbiamo pensare perché sono dell'andrangheta che sia un rapporto chissà chi normale, lui è molto affezionato a lui, soprattutto al figlio che ha lui, e quindi è un rapporto di parentela, un rapporto di... Poi lui giustamente essendo giovane vuole fare probabilmente all'interno del sistema un altro tipo, un'altra carriera. Come è stato lavorare, per quanto riguarda il personaggio di Stefano, con attori internazionali? Un'esperienza incredibile, cioè veramente una cosa stupenda, ho vissuto delle esperienze che mi hanno arricchito tantissimo dal punto di vista personale e anche professionale, perché interfacciarsi con attori hollywoodiani, ma anche Harold, che venire appunto dal Messico, è stata un'adrenalina costante. Day in the Hand, soprattutto, che ho visto nei film di Luc Besson, o anche facendo il cattivo di Spider-Man, e quando mi sono trovato la Sud-7 per me è stato tipo... sappi che io sono un tuo fan e adesso dobbiamo fare scena insieme, è abbastanza incredibile. La serie è strutturata attorno alle dinamiche e ai rapporti che si creano tra persone, diciamo, coinvolte nel mondo del traffico illegale di cocaina. Quindi si può dire che, in un certo senso, la serie sia, prendendo diversi paesi, diverse persone da diversi paesi, una critica agli aspetti, diciamo così, negativi della globalizzazione? Ma non so se è una critica, cioè non è una critica, nel senso che non è questo l'approccio con cui l'abbiamo pensata, è più un viaggio dentro un aspetto della globalizzazione attraverso la cocaina. Cioè l'elemento, diciamo, di giudizio in qualche modo non è dentro la storia. La storia, secondo noi, cerca di mettere in scena quello che succede. Cioè noi cerchiamo di fare un lavoro di approfondimento della realtà prendendo tantissime informazioni e facendo, appunto, interviste, viaggi in tutti i posti per avere fonti di prima mano, cioè avere un contatto diretto perché solo così non evitiamo di scimiotare cose che abbiamo visto per conto nostro. Per cui se invece vai in Messico e stai a Reynosa capisci come funziona in Messico, se stai in Africa, a Dakar capisci come funzionano altre cose. Intervistiamo tutti i personaggi che, diciamo, che uno vede raccontati sono persone che in qualche modo fanno riferimento a qualcuno con cui abbiamo parlato. Questo rapporto diretto con le persone nel nostro intento c'è di cercare di capire. Una volta che abbiamo, diciamo, capito come funzionano i meccanismi delle cose, no? E dentro che anime si portano appresso, che anime trascinano via, che anime si perdono dentro tutti questi meccanismi, cerchiamo come di trovare un modo per incarnare questo sentimento generale che ci arriva da questa indagine in dei personaggi e poi di farli muovere all'interno di questi mondi. Essendo frutto di tutte queste esperienze, che ti toccano anche emotivamente, perché conoscere un ragazzo che il suo amico è stato ucciso con una martellata sul cuore da un militare o un narcotrafficante messicano, che te lo racconta lui direttamente, ti fa un effetto, questo effetto si riproduce nei personaggi. Anche magari perché hai parlato con quello, però poi a New Orleans hai parlato e ti hanno spiegato che le rotte della droga in America passano per quella città, che le cinque famiglie mafiose di New York hanno sempre tenuto come protetta dal crimine organizzato, perché così passava meno sotto gli occhi delle indagini della polizia. È come se tu ti lasci fare come se hai una specie di filtro e questo qua dà vita a dei personaggi. Il risultato probabilmente può essere che è una critica, però è più lo lasciamo come allo spettatore di interpretarlo. Noi cerchiamo di metterlo in scena con tutta la potenza che c'è arrivata addosso quando lo cerchiamo di capire. Nel processo di adattamento dal romanzo originale, cosa è stato tolto di importante o meno e cosa invece è stato aggiunto, se c'è stata questa modifica? Guarda, il caso questo qui è che non si tratta di un romanzo. Nel libro di 000 sono una serie di capitoli dove mette in luce alcuni fenomeni legati al narcotraffico, è come un'inchiesta giornalistica. Per cui noi quello che abbiamo preso dal libro è semplicemente l'idea che comunque l'inchiesta aveva per oggetto la cocaina come vettore generale. Noi poi non ci sono dei personaggi, delle storie come in un romanzo, delle svolte, non ci sono i Linwood, non c'è Emanuel, non ci sono i messicani, non c'è niente di tutto questo. Ci sono quello che succede nella realtà in diversi punti del mondo. Noi abbiamo scelto, appreso quest'idea generale, raccontiamo il mondo attraverso la cocaina in qualche modo. E poi noi abbiamo fatto la nostra personale inchiesta per approfondire alcuni aspetti di queste cose con quei viaggi mirati in alcuni posti di quelli che nel romanzo parla anche della Russia, di altri paesi. Noi abbiamo scelto il Messico, gli Stati Uniti e l'Africa. E dunque lì abbiamo fatto questi viaggi di approfondimento e da quelli sono nati i personaggi della storia. Non c'era nel libro in precedenza, perché il libro non è un romanzo inteso in quel modo. E nella struttura drammaturgica, qual è la differenza principale, nonostante le tematiche in comune, fra Gomorra e 000? Beh, innanzitutto Gomorra è l'indagine su un microcosmo, che è un quartiere in particolare due di Napoli Nord, principalmente parte in quel modo. Per cui è come guardare un posto che è vicino a noi e cercare di mettere un microscopio in quel posto lì. Questo invece è uno sguardo che cerca di guardare nel complesso del nostro pianeta, che succede contemporaneamente in posti diversi. Per cui gli approcci in questo senso sono un po' opposti, perché uno va a cercare che c'è proprio lì sotto in quel punto, quest'altro cerca di alzarsi per vedere che cosa emerge in diversi punti attraverso un filo conduttore che è la cocaina. Con il racconto di Gomorra ci veniva spontaneo, stando lì, due scelte, che erano quelle di rendere il punto di vista, diciamo, di quelli che commettono il crimine, in qualche modo, e dall'altro avere gli episodi che sono tendenzialmente ognuno riguarda più un personaggio, questo inizialmente. Qua invece il tipo di racconto che è diverso ci metteva il fuoco su tre gruppi principali e ci metteva la necessità di trovare un modo per raccontare il fatto che le cose avvengono contemporaneamente da una parte all'altra. Per cui ci ha suggerito che il tipo di struttura che dovevamo inventarci non era come quella di Gomorra, che ogni singolo episodio è, diciamo, il punto di vista principalmente di un personaggio e dunque c'è una specie di polifemia di punti di vista attraverso tutti gli episodi, ma è piuttosto che tu nello stesso episodio convergono storie diverse che in un punto solo si toccano per poi dopo tornare una da una parte, una dall'altra e recuperare quello svantaggio temporale che è dato dalla contemporaneità degli eventi.